Direttamente dalla macchinuccia magica, buongiorno a tutti, diciamo che questa mattina è una mattinata un po' particolare, stiamo andando ai funerali del povero Willy, io vi dico una cosa per tutti coloro che mi vedessero oggi, se facciamo foto non se facciamo niente, perché oggi è una giornata molto triste, quindi siamo là soltanto per poro Willy, quindi mi raccomando siamo vicini alla famiglia. Grazie. 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 Grazie.